Elide telefonerà ancora, dice Sandro. Dobbiamo studiare una risposta migliore di ti faccio richiamare da Mike più tardi. Sì, hai ragione, risponde lui con la voce impastata. Che ore sono? Le sette e mezza. Dobbiamo andare da Patrizio. Due minuti e siamo in macchina, dice Sandro facendo tintinnare le chiavi nella tasca. Tu come ti senti? Come uno che ha fatto a botte per quattro ore di fila, dice lui appoggiando di nuovo la testa sul cuscino. Andiamo, aggiunge poi alzandosi. Ci sei? grida Sandro dal pianerottolo dopo qualche minuto. Sì, sì, fa lui che ha avuto appena il tempo di sciacquarsi la faccia. Mike esce di casa e afferra il pomello della porta trascinandolo verso di sé. Fermo, grida Sandro. Se la chiudi non potrai più rientrare. Ho preso la chiave di riserva, dice lui. Scendono in ascensore e poi saltano in macchina. Sandro, viste le condizioni dell'amico, si mette alla guida. L'altro non si oppone. Che vuol dire che hai fatto a botte per ore? Niente, ho sognato Elide. Ah, dice Sandro. in breve sono a casa di Patrizio, una villa di oltre 600 metri quadri piantata in un giardino curato in maniera zelante, per non dire maniacale. Il padrone di casa va ad aprire e di fronte ai due uomini malmessi anziché no, dice che c'è? Le vostre mogli vi hanno buttato fuori di casa? La battuta è infelice, non ride nessuno. Poi aggiunge, entrate dai, scusatemi, sono appena rientrato da Roma. Che è successo? Vanno a sedersi nel primo dei sei saloni della villa. Ieri sera, alla festa, qualcuno ha rubato le chiavi di Mike, è andato a casa sua e ha rapito suo figlio. Che stai dicendo? Patrizio guarda Mike, muto. Com'è possibile? Chi può essere stato? Qualcuno che era alla festa? Continua Sandro. E che ci fate qui? Siete già stati alla polizia? No, niente polizia. Hanno lasciato un biglietto che dice di non chiamarla. Sembra l'incipit di un poliziesco di serie B, dice Patrizio. E a Mike viene in mente quella battuta famosa per la quale la vita imita la cattiva televisione. Che pensate di fare? Pensiamo di vedercela a noi, dice Sandro. Se si tratta di uno dell'ambiente, come crediamo, non può essere un professionista. Sarà un improvvisato che ha voluto cogliere l'occasione per tirar su dei soldi. Possiamo gestirlo. Può darsi, ma dovreste almeno esserne sicuri. È per questo che siamo qui, dice Sandro. Dovremmo chiederti un favore. Ditemi. Dobbiamo guardare le registrazioni delle telecamere di casa di ieri sera. Chiunque sia stato ha preso le chiavi dal cappotto di Mike nel guardaroba. Se scopriamo chi, lo andiamo a prendere subito. Non c'è problema, dice Patrizio. Poi si volta verso l'altro e aggiunge Mike, tranquillo, ne verremo fuori. Mike lo guarda senza espressione. Grazie è l'unica cosa che gli riesce di dire. È difficile sperare in una situazione disperata. Patrizio lo intuisce e dice qualunque cosa abbiano in mente. Hanno tutto l'interesse a che Filippo stia bene. Quindi non preoccuparti. Poi si alza e aggiunge seguitemi. Patrizio fa strada verso un'altra stanza. È un uomo alto, oltre la sessantina, che nonostante sia appena tornato da un viaggio, indossa i suoi abiti senza una piega, come se avesse appena finito di prepararsi per uscire. Siede alla scrivania, accende il computer, li invita ad accomodarsi di fronte a lui. Fa partire il software di visualizzazione. Seleziona la telecamera che inquadra il guardaroba e scorre il filmato fino ad arrivare al momento in cui Mike vi ha lasciato il cappotto. 8 e 42 Mike dice. Da qui in poi dobbiamo guardare tutti insieme. Gira il monitor in modo che anche loro possano vedere. Immagino che ci vorrà un po', dice poi. Bevete qualcosa? Sono le otto e mezza, risponde Sandro. Mica ho detto whisky, dice Patrizio. C'è anche succo di frutta. Vabbè, ho capito, bevo da solo. Va a versarsi del liquore nella stanza accanto, con tutta calma. Poi torna a sedersi. Niente ancora? No, fa Mike. Aumento un po' la velocità, dice ancora Patrizio. Facciamo attenzione. Va avanti a due per, poi a quattro per. I movimenti al guardaroba sono sempre gli stessi. Gente che dà il proprio sopraabito alla ragazza, la ragazza che lo ripone, gente che va a chiedere di nuovo il sopraabito, la ragazza che lo preleva e lo consegna. Dopo un po' succede qualcosa di strano. La ragazza è al telefono e un tale si avvicina al bancone e le chiede qualcosa. Poi fa un gesto col dito, indicando che può pensarci da solo. Lei lo guarda per un attimo, poi lo lascia fare. L'uomo in completo oscuro entra ed esce con grande rapidità. Addosso ha un cappotto, non è quello di Mike e ha entrambe le mani infilate in tasca. Deve essere lui, dice Mike. Aveva già il cappotto addosso quando è entrato. Possibile che la ragazza non ci abbia fatto caso, dice Patrizio. Era distratta, interviene Sandro. Per un po' è stata addirittura girata di spalle. Ferma, ferma, dice Mike. Voglio vederlo bene in faccia. Lo conosci? chiede Sandro. No, risponde Mike. Neanch'io, fa Patrizio. Come ha fatto a entrare alla festa se nessuno di noi lo conosce? domanda Mike. Potrebbe essere chiunque, dice Patrizio, il marito di qualcuno. Allora però non è dell'ambiente come pensavamo, dice Sandro. Torna un attimo indietro, dice Mike. Anzi, fammi vedere tutte le telecamere attive. Patrizio armeggia un po' con i pulsanti a video. Di quanto devo andare indietro? chiede. Un'ora, dice Mike. E poi vai avanti veloce. Qual è il massimo? 16x. Va bene. Si fa mostrare di nuovo tutta l'ora precedente, guardando con grande attenzione e spostando continuamente lo sguardo da un'inquadratura all'altra. Che c'è, Mike? Hai visto qualcosa? dice Sandro. Ferma qui e ingrandisci la faccia di questo tizio. È sgranata, ma visibile. Chi è? chiede Mike. È uno che ha fatto un provino qualche settimana fa, dice Sandro. Me lo ricordo bene perché è completamente negato. La prova è stata imbarazzante. Cos'ha di strano? Non mi ha tolto gli occhi di dosso un solo momento. Non ci avete fatto caso? Se ne è stato in disparte tutto il tempo sulla soglia del balcone, fumando una sigaretta dopo l'altra, ogni tanto alzando lo sguardo verso di me. Per il resto facendo il vago. Ogni volta che mi spostavo mi seguiva. Per tenermi d'occhio, è chiaro. Che vuoi dire, fa Sandro? Se quello sconosciuto ha preso le chiavi, questo è il complice. Sta facendo il palo, è evidente. Mi tiene d'occhio per avvertire l'altro dei miei spostamenti. Gli avrà detto qual era il momento buono per andare al guardarobba. Non è escluso, dice Patrizio. Che ne pensi, Sandro? Penso che da qualche parte dobbiamo pure incominciare. Poi, aggiunge rivolto a Patrizio, ha fatto un provino. La sua faccia deve stare nei registri dell'agenzia, giusto? Giusto. Andate da Marta. Fa quello mentre stampa la foto del tizio e la consegna a Mike. Ditele di tirar fuori i fascicoli dell'ultimo mese. Lo troverete sicuramente. E poi, dice Mike, e poi andiamo a trovarlo e spalanchiamo anche noi la sua porta di casa. Grazie.